Omedix debutta anche nel settore degli umidificatori, quindi del confort ambientale, oltre che quello personale, con dei prodotti da tavolo o d'appoggio, ma rimanendo nei prodotti da tavolo abbiamo un prodotto proprio da scrivania. Adesso Roberto ci racconta magari di cosa si tratta e che usi è destinato. Certamente, allora prima cosa che salta all'occhio secondo me è il design, piccolino, simpatico, molto carino. Tu dicevi giustamente è un umidificatore da tavolo a ultrasuoni, quindi gli ultrasuoni permettono a questo umidificatore di essere silenziosissimo, non si sente. Io posso collegarlo, adesso è acceso, lo posso collegare alla spina tramite il cavo fornito, ma posso anche, siccome dicevamo appunto che è da scrivania, solitamente sulla scrivania io uso il computer, abbiamo in dotazione anche il cavetto con la presa USB. Quindi cosa posso fare? Lo posso connettere al mio computer e mentre lavoro, per esempio in uffici molto grandi, in ambienti molto grandi dove effettivamente sarebbe difficile umidificare l'aria, magari d'inverno con il riscaldamento acceso, io posso umidificare semplicemente la mia aria, quindi l'aria che respiro io durante la mia giornata, durante le mie ore di lavoro e stare quindi con il mio umidificatore sulla scrivania e permettere di respirare un'aria più pulita nel mio ufficio o a casa. Egoistico ma interessante. Egoistico ma molto interessante. Grazie.